Il 5,7% dei laureati italiani di secondo livello, soprattutto a causa delle difficoltà del mercato del lavoro dovuto alla crisi economica, è andato a lavorare all'estero ed il numero tende a crescere. Inoltre il Sud continua a perdere diplomati e laureati e dal 2003 al 2017 le università italiane hanno perso oltre 40.000 matricole, registrando una contrazione del 13%, anche se nello scorso anno accademico le immatricolazioni sono tornate ad aumentare. Questi gli elementi più significativi che emergono dall'ultimo rapporto sulla condizione occupazionale dei laureati del consorzio Alma Laurea, presentato all'Università La Sapienza di Roma. I segni più non mancano, più immatricolati, più mobilità, più laureati stranieri, più esperienze all'estero, si sono dimezzati fuori corso e l'età media della laurea, 25,8 anni nel 2018, è in netta diminuzione rispetto al passato. Inoltre migliorano anche occupazione e retribuzione, ma non ci sono campane da suonare a festa perché gli incrementi non sono strutturali e bisogna recuperare ancora il gap maturato negli anni della crisi. L'altro problema è il Sud che perde diplomati e laureati e questo è un divario che stenta a colmarsi e che fra dieci anni rischia di far diventare la parte meridionale del paese un guscio vuoto. A preoccupare fortemente è l'emigrazione dei neolaureati italiani, che è in pratica la perdita del vero capitale del paese. Il 40,8% dei laureati che ha scelto di lavorare fuori dall'Italia ha dichiarato di essersi trasferito all'estero per mancanza di opportunità di lavoro adeguate nel nostro paese e ad essi occorre aggiungere un ulteriore 25,4% che dichiara di aver lasciato l'Italia avendo ricevuto un'offerta di lavoro interessante da un'azienda che ha sede all'estero. Chi lavora in altre nazioni a cinque anni dal titolo percepisce 2.266 euro mensili netti, il 61% in più rispetto ai 1.407 euro che guadagnano coloro che sono rimasti in Italia. Il report attesta inoltre che quasi la metà dei laureati è disposta a trasferirsi all'estero per lavoro ed un terzo in un altro continente. Tra i dati incoraggianti il fatto che migliorano il tasso di occupazione che ad un anno dal conseguimento del titolo è al 72% tra i laureati di primo livello e al 69,4% tra quelli di secondo livello e le retribuzioni. Dopo un anno i neolaureati di primo livello guadagnano mensilmente 1.169 euro, quelli di secondo livello percepiscono 1.232 euro, anche se l'aumento non colma la significativa perdita retributiva registrata nel periodo più difficile della crisi economica. Grave infine il fenomeno migratorio dei giovani del sud e delle isole. Un quarto dei diplomati meridionali decide infatti di conseguire la laurea in Atenei del centro e del nord Italia.